Un momento molto difficile per il sindaco Lucio Greco. La fase che sta attraversando la città è tra le più complesse e mette a dura prova anche il rilancio amministrativo varato negli ultimi mesi dello scorso anno. Non solo la pandemia da covid ma anche questioni ancora irrisolte come il servizio rifiuti e l'emergenza sanità preoccupano l'avvocato. L'attenzione è concentrata praticamente solo sulle tante allerte e anche la politica per il sindaco deve passare in secondo piano. Esclude infatti collocazioni politiche. Spiega di non voler neanche commentare ipotesi di questo tipo. Ribadisce di essere concentrato sui tanti problemi e sulle tante emergenze della città. L'avvocato un richiamo anche piuttosto vibrante lo fa gli alleati a partire dal vice sindaco Terenziano Di Stefano che insieme al gruppo di Una Buona Idea sembra aver ripreso la strada dell'autonomismo anche in vista delle prossime regionali. Greco si augura però che il vice sindaco non faccia più fughe in avanti. In questa fase, lo ribadisce, non ci sono ragionamenti che riguardano la politica. Chiede a tutti di far prevalere il buonsenso e la responsabilità. Il primo cittadino non vuole sentire parlare di possibili collocazioni o di strategie rivolte alle prossime scadenze elettorali soprattutto se nella lotteria delle ipotesi finisce anche il suo nome. Non avendo mai formalizzato una scelta di appartenenza la sua posizione viene spesso tirata in ballo per eventuali approdi di partito. Per Greco però questa non è una fase per poter individuare delle collocazioni soprattutto a livello di partito visto quanto già accaduto a Roma nella fase di elezione del presidente della repubblica. Il sindaco rilancia quindi la priorità che è amministrativa e non politica. Secondo il primo cittadino bisogna impegnarsi a governare la città in un momento appunto molto difficile. Probabilmente il sindaco sa che con la corsa verso le regionali che a breve si farà ancora più sostenuta bisogna porre subito degli argini evitando che la sua maggioranza e la stessa giunta si facciano trascinare da logiche di stretta politica indebolendo il tessuto amministrativo che deve già fare i conti con emergenze costanti. Per Greco non è tempo di collocazioni politiche in un'alleanza che tre anni fa si presentò come civiche che nel corso del tempo ha comunque ricevuto l'appoggio attivo anche dei partiti.